bella a tutti i pro player qui sono gli illuminati che vi parlano e oggi siamo in un nuovo video questa è una specie di vlog in cui come potete vedere apriremo quindi spacchetteremo un pacchetto di pokemon evoluzione che 4,90 un prezzo un po indecoroso però per chi non sapesse indecoroso credo sia la cacca è bella ecco comunque come si apre vabbè intanto ho tagliato qua mentre oggi non siamo da soli ma c'è una nostra amica di nome georgia saluta intanto qua c'è tanto c'è un vento e io penso che voglio beh ti regala anche tu te sacchetto allora qui si chiama quella cosa che dobbiamo fare prima trick ok lo faccio io perchè tu non lo sai fare no io lo so no no io non so prima e dai voglio fare come io partecipare ecco vabbè già ho visto che è uscito Charmander quindi non spoilerare no spoilerare incontriamo il culo di G allora con il codice vabbè il codice di merda che non vi facciamo vedere per i G ok ok e poi metti due sopra queste carte primo gira Charmander poi Magnemite vabbè un'energia acqua Arc-Rowlight Growlite Machamp Allenatore Pokédex Porygon Oddio E' anche io sto guardando Attenzione Inquadra bene Inquadrando Cura totale Raiju Drago Knight Drago Knight X Drago Knight X Questa è una delle carte più rari di questo set Quindi Drago Knight X E Raiju Che non sono Della Che non sono dello stesso tipo Però Perché Drago Knight X Sono davvero due belle carte Anche se non me ne intendo di poco Ma credo siano davvero molto forti Sì Allora Raiju Non è raro Non è forte Però E' comunque una bella carta Da collezione Ecco Mentre Drago Knight E' da collezione Ed è abbastanza forte Che con solo 4 energie Può compiere un danno complensivo Di 130 Con 180 punti vita Ok Ragazzi Questo è stato Un super spacchettamento Di Pokémon Quindi vuole una musica etica Vi ricordiamo di Condividere 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 con gli amici E taggarli Nel caso Che non avessero mai trovato un cazzo In Pokémon Cosa che mi sembra davvero difficile Mettete mi piace al video Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi ancora Lo ripeto Scrivete nei commenti Se volete vedere Altri spacchettamenti Quindi Seguite le nostre pagine Facebook e Instagram E noi vi salutiamo E ciao Ciao Eeeh Vi devo dire una cosa Cosa? Cosa? Voglio Voglio scaricare mi Pokémon Ciao 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 Grazie a tutti.